Dunque, Vladimir Georgiev, l'uomo che ucciderà e verrà ucciso a Marsiglia, risiede in Italia nel campo Ustascia di Borgo Valditaro, in provincia di Parma. E questa era la casa che noi avevamo affittato a questi cosiddetti bulgari, che poi invece erano Ustascia o croati, non so. Qui erano sistemati? Guardi, lì dormiva quello grosso lì, nell'altra stanza dormivano altri tre o quattro. Nella cucina dietro, da parte di là, c'era la famosa rotativa. Poi c'è un bagno, lì in fondo, nella stanzina lì in fondo non ci sono mai entrata. Non so se quella contenesse le varie cose loro, appunto, altre cose, non ci sono mai entrate. E lei con la sua famiglia dove stava? Noi di sotto, di sotto, sì, che anche lì è sistemata nello stesso modo. Qui due camere da letto, là in fondo la cucina c'era e la stanza che noi usavamo da sala. Quella qui si dice buongiorno sala e poi si chiude. E poi il bagno, nient'altro. E il contratto è stato fatto da Ante Pavelic. Da noi venne Ante Pavelic per cercare il locale e si fece il contratto, non ebbe difficoltà perché di quella cifra era tanta ma era piccolissimo, 130-140 lire al mese mi pare che deve essere allora. Era un bel affitto per quell'ora? Eh, a me sembrava, sembrava di avere... Esatto. Eh, guardi, si parlò un po' del più del meno e poi mi disse guardi che loro hanno una piccola macchina che non vi disturberà io penso perché è una macchina che fa, non so, il fracasso di una macchina da cucire, insomma, ecco. Non sapevamo se fosse una stampatrice o che occorre. Ah, era una stampatrice? Eh, una stampatrice. Erano tutti con un vestito grigio piuttosto scuro, un grigio perla scuro, avevano tutti quasi una divisa uguale, credo lì a quel palazzo là erano circa una trentina o trentacinque, otto dieci vivevano in paese, albergo a penino e in una casa privata. Io ero allora all'albergo a penino dove noi abbiamo ospitato, proprio in quel periodo, i capi, così chiamati i capi. Uno era un militare per eccellenza, cioè piccolo, però con un viso che esprimeva tutto, insomma, forza, coraggio, eccetera. L'altro invece che io ricordo molto bene, che noi chiamavamo l'idealista perché era un personaggio particolare, amava tutti, aveva simpatia per tutti, diceva che lui la carne non ne voleva sapere, di fatto era un vegetariano. Le persone che hanno parlato con lei chi erano? Dunque, antepavelico va bene, era il suo Giovanni che era quello che pagava e gli dicevano il suo Giovanni. Ho capito, era italiano? Eh no che non era italiano, non ho, e c'era quell'antepavelico di, ah cosa, questo Vladimiro, ma erano due i Vladimiri. Uno, quello che appunto ha ammazzato Alessandro Everton, e l'altro, un altro Vladimiro, un bel giovane, altro, biondo, anche quello si chiamava Vladimiro. Non so se poi avessero detto i nomi esatti, insomma, ben sanno. Che tipo era Pavelic, per esempio, fisicamente? Pavelic era un tipo, vedi, più bello che si vede, insomma, è garantito. Un uomo che era stato 1,90 d'altezza, un moro, un bel tipo, una bella figura. Parlavi italiano? Poi lo avevo italiano correttamente, proprio perché... E ci davano questi scarponi e facevamo le riparazioni, poi li mandavamo su, verso la Bertorella, al palazzo, la Bertorella, sì. E' uno scarpe alte, tipo militare, adesso ci chiamo tipo militare, che li vedo adesso i militari alti, anche. Però ero in un affoggio, in uno stile, che posso dire, scarpe bulgare noi le chiamavamo, ecco. Da noi non andava un affare del genere. Si è presentato qua un uomo che noi l'abbiamo subito battezzato per bulgaro, perché aveva il beretto da autista con la visiera. Poi successivamente ci hanno chiesto la fornitura di diversi uomini, cioè per degli uomini dislocati in una frazione qua vicina, a 3 km, che si chiama Gotra. Cosa li portava lei? Noi ci davamo molti fagioli, riso, tutta soia, ma consumavano, quello che mi aveva impressionato di più era il gran consumo di caffè che facevano. Una, ma sacchi, 20-30 kg alla volta. E questo Giovanni aveva l'organizzazione, si vede, logistica di tutto, sia per quanto riguardava la sistemazione, sia quando ai rifornimenti, alla parte finanziaria. Inoltre all'albergo che era condotto dai miei zii era alloggiato Vladimiro, che noi abbiamo soprannominato il vegetariano, perché faceva sempre delle discussioni sul modo di mangiare, che lui assolutamente mangiava solo vegetali. Per raggiungere un ideale, diceva sempre, per raggiungere un ideale. Questi lavori, queste manovre che facevano? Queste manovre più che altro erano esercitazioni con fucili, con delle armi, così, per impratichersi delle armi, ecco. E manovre, diciamo, anche tattiche. Si diceva anche che avessero anche dei fucili di legno, appunto, per queste manovre. Qua si vede la di sotto, quel palazzo là, che loro lì avevano una specie di poligono, dove facevano esercitazioni. E con bombe a mano, lo dicevano, perché lì non ci si poteva avvicinare. Ma si vede che qualche guai sono successivo, perché più di uno li hanno portati all'ospedale di Borgotano, che erano feriti grave. Di loro? Si, si sono stati due o tre casi tra di loro. Si sono feriti durante queste manovre. Che alla notte loro venivano fuori, facevano la scherma, poi alle volte legavano uno vicino all'albero, poi con la rivoltella, sparavano. E poi c'era anche, alle notte partivano con dei bei cavalli alti, grossi, tutti mordati, bene. E ce n'era uno che si chiamava Vladimir. Ho capito. E quello lì era sempre vestito da saffero. E quello lì diceva, io presto vado in missione, non so se tornerò. Stavano via dei 15 giorni, poi tornavo. Non sapevano, io non so dove andavano, dove non andavano. Questo non so niente. Persone buone. Anche il Vladimiro stesso che uccise il Bartù, noi non sapevamo niente. Gli ho attaccato un bottone in un vestito blu, io, prima che lui partisse. È venuto a salutare e sinceramente era commosso. Era commosso. Si vede che... Quindi loro sapevano della partenza. Guardi, no, noi non sapevamo della partenza. Noi non sapevamo della partenza. Li abbiamo visti partire un bel giorno. E poi quando ci siamo accorti di questa cosa, quando dalla Francia sono arrivati i giornali con l'uccisione, perbacco, ma allora era un complotto. Guardi, siamo arrivati in fondo alla faccenda, ignorando completamente tutto. E non solo io che ero ragazza, ma anche tutti. Mi è venuto a salutarmi, Vladimiro solo, venne lì a salutarci con le lacrime agli occhi. Piangeva, neanche se avesse previsto... Piangeva. E mia moglie, mia moglie... Eh, poverata, mi dispiace tanto. Ma cosa gli disse che andava a fare? Eh, signora, vado, vado, vado... Vado via, ma non dice mica dove. Poi non sapevano che andarono a Marsiglia e fecero quel colpetto lì. E come è venuto a sapere poi che questo Vladimir era stato quello che aveva ammazzato? Eh, accidenti, dalla fotografia anche l'abbiamo visto. Ah, allora. Eh, madonna. Quando hai visto la fotografia? Eh, fotografia, tutto Vladimir, come si chiamava poi il cognome, non so. Georgiev, credo. Eh, Georgiev, sì. Eh, allora da quello lì, eh, c'è... Capito. Eh, altro, è conosciuto, ma benissimo. Guarda professionale. Maurti. Ciao. Grazie a tutti.